appena buongiorno a tutti ho appena ricevuto una potente canalizzazione angelica che presumo possa servire a tutti quanti mi sono state date delle informazioni su che punto dell'apocalisse siamo cosa dobbiamo ancora attraversare io adesso praticamente è appena finita questa canalizzazione faccio subito questo video per non dimenticarmi quello che mi è stato detto perché non ho scritto niente praticamente intanto io dicevo che eravamo alla sesta coppa ed è stata versata la quarta mancano ancora la quinta la sesta e la settima mi è stato detto che il marchio della bestia no è terminato non tornerà più se tutto il resto sono contorni a quello che è stato il marchio mi è stato detto che nel 2025 forse ci sarà questo rapimento io ho chiesto se questo rapimento ci sarà o saremo qua questo rapimento ci sarà forse nel 2025 come forse nel 2027 sarà terminata l'apocalisse poi ho chiesto se questi disastri che ci sono di grandine che pesa un etto questi fuochi questi incendi sono dovuti all'uomo oa dio e questo che sta succedendo nel clima è dovuto alla mano di creatrice di dio usa mi è stato detto che usa gli uomini che sono inconsapevoli mette loro in cuore delle azioni che devono fare ovviamente sono anime che non sono di luce ma di ombra e poi mi è stato detto che i demoni non hanno più quasi potere hanno perso la loro forza non hanno quasi più potere mi è stato detto che tutto sta procedendo secondo i piani divini e purtroppo mi è stato anche detto perché io ho chiesto se gli eletti erano più di 144 mila e dopo poco c'è stato un attimo che di silenzio e mi è stato detto che purtroppo gli eletti sono veramente solo 144 mila e non ho chiesto altro per oggi intanto vi lascio riflettere su queste informazioni che mi sono state date buona buona riflessione buona vita a tutti ciao